Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix e oggi mostrerò come andare a Northampton senza il bisogno di andare su siti o attività da scaricare, completamente in solo e senza l'aiuto di nessun amico. La prima cosa da fare è andare su online, attività, creatività, create da rockstar, missioni e avviate una qualsiasi missione in questa categoria. Fatto questo, avviate la missione e, una volta avviata, quitate dalla missione con il telefono. Andate su sopravvivenza, mettete sopravvivenza all'Udendorf tra i preferiti premendo quadrato, poi andate su elenchi partite, crea, preferiti e scegliete sopravvivenza all'Udendorf da mettere come prima attività. Dopodiché mettete la missione che avete giocato andando su giocati di recente, salvate la playlist e avviatela. Quando avete avviato la sopravvivenza, appena finisce il timer, suicidatevi e, fatto questo, partirà la missione che sarebbe la seconda attività dell'elenco partite. Avviate la missione, semplicemente chiamatela Oppressor MK2 o un qualsiasi mezzo volante e potrete esplorare liberamente Nortyankton. Se non avete un mezzo che vola, potete chiamare Lester e chiedere di individuare un elicottero. A questo punto volate a sud dalla mappa e vedrete in lontananza le texture di Nortyankton. Potrete esplorare liberamente Nortyankton anche scendendo dal velivolo, dalla Oppressor o qualsiasi mezzo state utilizzando per raggiungere la mappa. Ovviamente è la solitar Nortyankton lasciata incompleta, come avevamo visto tantissimi anni fa con i glitch su PS3 ed è forse un po' per questo motivo che questa mappa non uscirà su GTA Online, più che altro perché in questo stato non c'è niente di particolare. Per dirvi, mancano addirittura un paio di cose, come invece abbiamo visto nel prologo, ad esempio la mappa, e la mappa è come se fosse in parte tagliata dalla stessa Rockstar Games, però è sempre una bella sensazione esplorare qualcosa di nostalgico, se così possiamo dire. Piccolo bonus a questo video, Rockstar ci fa sapere che la sfida della community è stata già ampiamente completata e che quindi nei prossimi giorni riceveremo sia la tuta da scheletro arancione che la maschera. Adesso l'obiettivo è di raggiungere gli 800 milioni di zombie uccisi e raggiunto questo obiettivo Rockstar ci regalerà sia la tuta da scheletro luminosa viola che la tuta da scheletro luminosa verde. In questo momento siamo agli oltre 400 milioni di zombie uccisi. Quindi niente ragazzi, da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video! Grazie a tutti!